Cosa ne pensa di questo cambiamento? Ma se è una cosa agevole che facilita un po' anche la vita di noi cittadini con una telefonata anziché andare dal dottore ogni volta per una ricetta, sono d'accordo. È utile, è interessante questa cosa perché magari se uno va a Milano deve portarsi dietro le medicine oppure gli succede qualcosa all'improvviso, cosa fa? Secondo me è una cosa positiva, io sono per le innovazioni. Bisogna andare sempre a cauti, così all'improvviso mi sembra un po' troppo traumatico. La ricetta non sparisce, diventa rossa, diventa bianca, ma la carta c'è sempre. Dal nostro punto di vista è positivo perché non ci saranno più errori. Una volta poteva succedere l'errore umano, la malinterpretazione della calligrafia, vi sperate la calligrafia del medico un po' così, adesso non succederà più perché il sistema operativo se il farmaco dato non è quello della ricetta lo blocca. La tendenza è quella di andare a eliminare completamente la carta, voi adesso avete anche l'obbligo di infustellare, insomma questo dovrebbe essere nel 2017 eliminato. Questo è il lato negativo perché una ricetta dematerializzata la carta doveva sparire. Il ministero sta studiando il sistema di eliminare il fustellaggio, cioè non si andrà più a applicare la fustella del medicinale sulla ricetta, ma andrà letta solo otticamente e si consegnerà il farmaco senza la procedura che si sta facendo. È una cosa diciamo di tecnologia, il ministero ci sta studiando, speriamo quanto prima di arrivare a questo sistema innovativo. La cosa mi pare buona, no? Così possiamo andare in qualsiasi farmacia. Ma insomma tanto la tracciabilità rimane comunque a livello telematico, quindi tante cose in realtà non cambiano, è solo una percezione tattile. Dal punto di vista dei pazienti non cambia molto. No, 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 assolutamente.